Anche a Taranto la festa nazionale del pane fresco, Emma Prunella. Sì, allora la Federazione Italiana Panificatori, FIPPA in Italia, ha indetto per questa settimana la festa del pane. Noi qui a Taranto, come Associazione Panificatori di Taranto, del capoluogo, abbiamo deciso di festeggiare il pane in questo modo. Il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 ci sarà un convegno sui prodotti da forno e sull'alimentazione corretta, al termine della quale ci sarà un buffet offerto dalla categoria dove dimostreremo i prodotti da forno freschi che vengono fatti nei nostri forni. Mangiare una fetta di pane fresco è importante, perché? È importantissima. Si è scoperto che mangiare una fetta di pane fresco ogni giorno con un filo di olio d'oliva previene cancro e tumore del 30%. Questa è una... per noi panificatori è un traguardo importante, perché sono anni che ribadiamo che il pane fa bene, che sulle nostre tavole non deve mancare e invece siamo stati per anni attanagliati dalle diete dove il pane era il primo alimento che veniva tolto. Pane rigorosamente fresco? Sì, pane rigorosamente fresco dal vostro fornaio, perché ora io vi faccio una domanda. Il pane si lava? Presidente Suma, la Lilt si unisce alla FIPPA per realizzare prevenzione oncologica e per esaltare la qualità della giusta alimentazione. Sì, ci poteva essere connubio migliore tra la Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, e l'associazione dei panificatori e dei pasticceri, perché noi come intento, come obiettivo abbiamo la corretta alimentazione e sappiamo che da un po' la dieta mediterranea dal 2010 è stata annoverata tra il patrimonio immateriale dell'umanità. Quindi quale occasione migliore? Celebrare l'olio, che è soprattutto l'olio della nostra terra, e il pane della nostra terra. Sappiamo che in Italia ci sono numerosissime varietà di pane e la Puglia è una di quelle che ha un bellissimo primato. Quindi vogliamo far passare il messaggio alla cittadinanza che tra tutte queste diete che noi abitualmente facciamo, l'olio e il pane è stato rivitalizzato, perché ha una certa importanza. Nella giusta qualità e nella giusta quantità e nella qualità buona, noi possiamo ovviamente farne uso, farne uso per stare bene e per avere una vita migliore e sana. Quindi è un'occasione propizia, non mancate, soprattutto venerdì, perché ci saranno relatori di importanza, non soltanto territoriale, ma anche nazionale. Avremo il presidente Schittulli, unitamente ad esponenti del Dipartimento di Prevenzione della città di Taranto, dove ci spiegheranno come meglio utilizzare gli alimenti per vivere bene. Tutto questo sarà coronato anche dalla presenza dei giornalisti di Puglia, il quale ordine ci ha dato la sponsorizzazione di questo evento, dove saranno anche consentiti dei crediti ai partecipanti. Quindi vi aspettiamo numerosi e vi ringraziamo per l'attenzione. Presidente Sibilla, la conferenza stampa si tiene qui nella Fondazione Cittadella della Carità, si celebra il pane fresco in collaborazione con FIPPA e l'ILT. Sì, una meravigliosa iniziativa. Non poteva la Fondazione Cittadella Carità non essere presente in questa, che è sicuramente una iniziativa importante per il nostro territorio. La Fondazione ha sempre dato grande disponibilità alla l'ILT. Sono due anni che collaboriamo e speriamo che questa collaborazione possa, ovviamente, portare a risultati importanti per la prevenzione del nostro territorio. La l'ILT è attraverso la dottoressa per la SUMA, fa un'opera importante. Noi sicuramente siamo accanto della prevenzione. Forniamo, ovviamente, con i nostri specialisti, presso la nostra fondazione, tutti quelli che sono le operazioni di screening che vengono svolte già da diverso tempo. Quindi facciamo il nostro augurio perché questa iniziativa abbia il successo che merita.